Arti, via libera del Consiglio regionale al bilancio d'esercizio 2022. Lavoro, salario minimo, approvate due mozioni in aula. Il Consiglio regionale si è espresso con il voto favorevole di PD e Movimento 5 Stelle su due atti, uno presentato dai reni galletti del Movimento 5 Stelle e l'altro dal Partito Democratico, prima firmatare l'Arabuggetti. Adozioni, riformare la normativa vigente. Lo chiede una mozione che vede come il primo firmatario Massimiliano Pescini del PD, che è stata approvata in aula a maggioranza. Con 17 voti favorevoli del PD e Italia Viva e 8 contrari, Fratelli d'Italia e Lega, l'Aloa di Palazzo del Pegaso ha approvato il bilancio d'esercizio 2022 dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego, come sottolineato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico e l'Area Buggetti, che ha illustrato il bilancio al Consiglio, il conto economico di Arti si è chiuso con un utile di esercizio pari a 14.396.000 euro, con un valore della produzione di 55.921.000 euro e costi pari a 39.938.000 euro. I numeri parlano di un bilancio solido dove abbiamo registrato uno scostamento fra costi e ricavi che è stato poi giustificato anche dalla società che controlla le partecipate alla regione toscana, quindi sicuramente con una parte da destinare anche del disavanzo e quindi dell'utile di esercizio, stabilendo poi le percentuali con cui destinarlo e dove destinarlo, con alcune piccole raccomandazioni ma con un'ottica prudenziale di previsione che giustifica poi questo scostamento fra costi e ricavi. Ma è stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di Arti nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana. Quindi abbiamo ribadito, come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici, quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali, tanti che sono arrivati in questa regione e l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e coloro che cercano il lavoro. Quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta. Insieme a questo ci sono altri temi, quindi la parte dedicata alle persone con disabilità psichica e con ogni tipo di disabilità, dove vengono creati dei percorsi formativi insieme alle aziende, le persone che sono vittime di violenza, un'attenzione particolare alle crisi aziendali e quindi un collegamento e un raccordo forte con la direzione che si occupa delle crisi aziendali della regione toscana cercando di ricollocare le persone che perdono il lavoro a causa di una crisi aziendale. Indubbiamente l'Agenzia regionale per l'impiego svolge oggi un ruolo fondamentale, anche alla luce delle risorse importanti che sono arrivate sia dalla regione ma soprattutto dal governo nell'ottica di favorire le politiche attive del lavoro. È chiaro che a questo aumento sia delle risorse inorganico e naturalmente anche dei costi deve corrispondere dal nostro punto di vista anche un efficientamento della macchina. Questo significa che Arti deve funzionare, deve funzionare come strumento, oltre, anzi insieme ai centri per l'impiego, per favorire quanto più possibile l'occupabilità. In questo senso io credo che l'ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza sposi questo tipo di approccio perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona. C'è un'esigenza che è quella di cercare di reinserire nel mondo del lavoro anche alla luce delle modifiche normative che hanno abolito il reddito di cittadinanza anche se in realtà è scorretto parlare di vera e propria abolizione soprattutto perché finalmente si riesce a distinguere tra persone che sono occupabili e che quindi possono essere inserite nel mondo del lavoro rispetto a chi invece naturalmente ha la necessità di avere tutt'oggi un sussidio perché non ha possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Se noi riusciamo a cogliere questa sfida, quindi portare al massimo valore le riforme normative e a utilizzare ciò che abbiamo in campo come Regione Toscana per rendere davvero questa Regione una Regione che crea occupazione, che crea lavoro, che inserisce giovani, che inserisce le persone che in qualche modo sono potenzialmente adatte ancora oggi a dare qualcosa al mercato del lavoro, a cominciare anche da kipper del lavoro ad esempio per crisi aziendali, io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere. In questo senso monitorare l'attività di arti è fondamentale. L'aula di Palazzo del Pegaso si è concentrata su un tema di grande attualità, quello del salario minimo, approvando due diverse mozioni con il voto favorevole del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, una presentata da Irene Galletti e l'altra dal PD, prima firmatare l'area Bugetti. Come sottolineato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, l'idea di fondo della mozione è quella di garantire la dignità dei lavoratori attraverso il riconoscimento di un salario minimo orario. Ad illustrare la mozione del Partito Democratico, la consigliera è l'area Bugetti, che ha manifestato l'intenzione di votare anche l'altro atto. La nostra mozione, ha sottolineato, tocca il tema del salario minimo e parte dal disegno di legge 1275, aggiornandolo sulla base dell'inflazione per sconfiggere i contratti pirata. Per noi è una battaglia importante, perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana, ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo. Ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo, che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo, il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più. Il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD, ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro, ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza, che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti, che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguardo è precario, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro, ma anche contratti pirata. Quindi c'è tutto un tema grande che noi riteniamo dignitoso e è una delle nostre battaglie principali. Questa mozione risale al 2022, da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario, che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà. Per tutti quei lavoratori poveri, con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente il vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana, molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo, come è stato identificato da IRPET, ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore. Quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone, non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà, anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione, ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre, non vedo perché, non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore, ma che si fa? A dieci giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Il Partito Democratico l'ha fatta in termini per i quali ci siamo sentiti di astenerci unicamente perché non vogliamo bocciare in maniera aprioristica questa strada, potrebbe anche essere l'unica percorribile, a quel punto la sposeremo anche noi. Attivarsi nei confronti del governo del Parlamento italiano affinché la normativa sulle adozioni venga ad essere riformata ed adeguata alle prospettive di evoluzione sociale del nostro Paese, prevedendo la possibilità di adozione legittimante per tutte quelle persone che a prescindere dal loro essere in coppia o singole o dal loro sesso possono garantire capacità geritoriale, stabilità e accoglienza. È questo l'impegno chiesto alla Giunta regionale da una mozione presentata da numerosi consiglieri regionali del PD e che vede come primo firmatario Massimiliano Pescini. L'atto è stato approvato dal Consiglio con voto favorevole a maggioranza. Noi partiamo dal centro che è quello dell'amore verso il bambino e secondo noi, visto che anche gli esempi, visti gli esempi dei maggiori Paesi europei, dalla Francia alla Germania all'Inghilterra alla Spagna, che hanno leggi più avanzate e che tutelano maggiormente il bambino e danno più possibilità di adozioni e ampiano la platea delle persone che possono richiedere l'adozione di un bambino o di una bambina, chiediamo in quella impegnativa che la Giunta regionale si attivi presso il Governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto che vuole ampliare la platea, dare condizioni di uguaglianza perché oggi ad esempio la cittadinanza italiana per un'adozione cosiddetta sussidiaria è un percorso molto diverso da quello per l'adozione legittimante e quindi anche tutte le adozioni internazionali che vengono fatte, perché in altri Paesi si possono fare da parte di persone single, non possono essere considerate allo stesso modo rispetto alle adozioni cosiddette canoniche, quelle cosiddette regolari o legittimanti. questo è secondo noi un vulnus ed è una lacuna della legge che risente secondo noi di un tempo nel quale è stata scritta e oggi va migliorata profondamente. A Roma il Parlamento, grazie anche a un impegno tra i primi firmatari di un parlamentare toscano, l'onorevole Letizia Giorgiani, sta lavorando a una legge per accorciare questi tempi. La priorità deve essere questa, poter adottare le decine, le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia. La mozione di oggi era altro, era un put purri in cui all'interno c'era anche questo principio condivisibile, ma si faceva altro. Si parlava del tema delle adozioni dei single, che è un altro tema importante, perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio, perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita mille volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle. Ma quella mozione lì era altro, era una mozione ideologica che serviva a portare sul tavolo del dibattito il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, che è il terzo tema, è un tema ancora. Allora, noi non ci sottraiamo al dibattito, si può parlare di tutti e tre i temi, ma non si provi ad utilizzare il tema delle adozioni, che è un tema serio, per parlare di adozioni delle coppie omosessuali, sono due temi differenti. Si può dibattere su tutte e due. Questa era una mozione che si fingeva, una mozione per garantire un percorso di adozione più facile, ma in realtà serviva a dire grazie al Partito Democratico apriamo all'adozione da parte delle coppie gay, motivo per il quale Fratelli Di Salle è votato contrario.